bello a tutti ragazzi sciagari benvenuti e bentornati ragazzi benvenuti a questo nuovissimo video qui a ostia comics oggi ragazzi il nuovissimo video perché perché ragazzi come al solito in altri ma in parecchi miei video io vado a votare i cosplay i cosplay che ci stanno nelle varie fiere ma oggi ragazzi andiamo lì a far votare tra di loro tra di loro che voto daranno ai loro cosplay che voto si daranno tra di loro e andiamo subito a vedere vedo già i primi cosplay ovviamente dopo che come al solito già lo sapete vi siete iscritti al canale attivata campanella mettete like commentate e fa tutto questo deve fare sempre dai 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 che ci stanno un botto dei cosplay andiamo lì a vedere tra di loro che voto se danno allora loro sono i primi cosplay di oggi cosmi di oggi ragazzi che voto vi date innanzitutto che personaggi siete gioco e dagli senti quanto tempo ci avete messo per farli vostri cosplay abbiamo abbiamo fatti fare da un'amica nostra da un'amica vostra quindi ai vostri cosplay che voto vi date da uno a dieci 10 10 tu invece al tuo cosplay anzi no facciamo così facciamola più pepata mi raccomando cattivi e dovete essere cattivi tu tu che voto dai al suo di cosplay cattiva deve essere bella stronza 20 che voto gli dai 20 20 bene non è tanto cattiva però tu invece al suo cosplay che voto e dai da uno a dieci beh 100 100 c'è da uno a dieci c'è proprio over the top ma andiamo a vedere gli altri che voto gli danno a loro allora questo è un altro cospe che personaggio è il tuo sono a shira non mille shira no 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 quella è un'altra cosa è un'altra cosa l'hai fatto tu il cosplay si è la che voto dai al tuo cosplay da uno a dieci che voto ti dai l'ho dovuto fare in fretta perché non mi arriva non mi è arrivato quindi darei un sei un sei un sei ci sta ci sta invece che voto dai a questi cosplay che voto dai a loro da uno a dieci sei a tutte e due sei c'è sta c'è sta allora che personaggio è il tuo da genshin impact ancora genshin impact ancora funziona ancora per poco ma funziona ancora che c'è che voto innanzitutto l'hai fatto tu il cospe l'hai comprato l'hai rubato da dove l'hai preso è stato un regalo questa è nuova è nuova il regalo a un ma che voto dai al tuo cosplay da uno a dieci 8 8 c'è sta qualcosa che può migliorare cos'è vedi sta cadendo a pezzi raga sta cadendo a pezzi facca la scusa del fa caldo invece dimmi a questo cosplay che voto gli dai che voto gli dai a questo cosplay in sotto e mezzo sette bello vedi c'è sta c'è sta c'è sta voi ragazzi commentate qua sotto che voto gli date sia a questo cospe che a questo che state vedendo allora un'intervista sola ti piace il gorgonzola senti che voto innanzitutto mi sapere il tuo post l'hai fatto tu l'hai comprato l'hai rubato ovviamente rubato a bruce wayne l'ha rubato ci piace ci piace da uno a dieci che voto dai al tuo cosplay al mio cosplay da uno a dieci guarda voglio rimanere umile dieci 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 ci piace invece di essere lo cattivo stronzo come jogger ovviamente che voto dai a questo cosplay a questo cosplay secondo me si è impegnato parecchio da un bellotto un bellotto ci sta ci sta non si è stato tanto cattivo come giocare solo cattivo solo con quello col coro di nero con le orecchie allora ragazzi per chiudere questo video siamo con due fotografi che voi di cosplay ne avete visti un botto immagino giusto ne avete vipota dai più belli ai più brutti e più cosperò sempre ne avete visto ai più cosplay diciamo se quale è stato il miglior cosplay in assoluto che avete visto lucca 2015 armato di cartone con su scritto robocop mi sa che l'ho visto anche io messa condividi la stessa cosa c'è un altro cosplay bellissimo che visto bellissimo il più bello in assoluto che tu abbia mai visto come qual è dosta dosta e ti è timido e timido il tuo quello lucca grazie o io non so di che sta parlando se ne passa foto forse la metto qua in sovrimissione se non avete lo di che la foto non me l'ha voluta passare e quindi dato che voi di cosplay ne avete visti una marea avete detto ne avete visti un sacco voi mi dovete dare un voto da 1 a 10 a questo cosplay a questo cosplay voi che voto gli date da 1 a 10 la foto fatta io non sono un fotografo in generale quindi in totale diciamo 1 1 8 c'è sta c'è sta raga c'è sta e se lo dicono loro che sono fotografi professionisti se dovete credere voi invece scrivete qua sotto nei commenti alle foto ai posti che avete visto poco fa che voto le date da 1 a 10 e soprattutto chi si merita il 10 potremmo sapere qua sotto nei commenti noi ragazzi ci vediamo al prossimo video sempre qui a la nostra comix a robe e palle a tanti altri cosplay e poi se di nuovo allora c'è cari